tu non puoi capire perché non hai figli ecco un'altra cavolata che viene detta da quelle persone che non sono capaci di confronto i figli che io sappia si fanno per amore per desiderio tra due persone il risultato di quell'amore poi è un nuovo individuo personalmente in dieci anni sono passato da dovete fare i figli perché è la cosa più bella del mondo a beati voi che non avete figli per cui deduco che molti abbiano fatto i figli per pressione sociale cioè la società impone una sequenza che deve essere rispettata a garanzia della felicità è chiaro che l'opposto di logica si chiama vita per cui tutte le volte che ti affidi a una sequenza stabilita da qualcun altro che non è tua personale e che la maggior parte della gente esegue vuol dire che non stai ragionando con la tua testa e quindi sei destinato all'insoddisfazione io sono il dottor avoglio sono disponibile per consulenze online vi invito a visitare anche il mio canale youtube un abbraccio e a presto